ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling continuiamo con ducktales dobbiamo fare l'amazzonia quindi io direi di incominciare subito e andare in amazzonia allora sì c'erano fermati qua ma fantastico io pure vorrei farlo fantastico ok amazonia sì vai vai oi si è buttato da sotto orche non le ho viste molto bene ok eccoci ragazzi in amazzonia dove erammo rimasti ieri che sono arrivato non problema non problema non problema sai tu hai la radio mcd ah of course i do great then i'll be your eyes in the sky oh i'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once what an airhead no 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 then ancient income legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds and it should be dead ahead dai dai se lo dice zio vaverone allora ok questa è la mappa dobbiamo prendere tutte queste palli che vedete sono i denari i soldi insomma quindi dobbiamo prendere questi ah ma sono infiniti ecco ciò lo sapevo io oh eccolo la moeda antica no 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 il sole oh signore signore e siamo a quattro a falce cinque cinque che 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 bene 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 l'ultimo che se che 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 ma che la a Oh 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 Ma... Aia! Si vabbè Ahahahahah Ho trovato un altro e lo depirà la potenza di una spira Questo è Spongepad, signor McDean! Venite, signor McDean! Ho precipitato Spongepad, cosa era? Niente, boss E' sicuro che nessuno aveva usato questo pezzo, comunque Eh... Ma magari loro Mi sembra che ci rimango secco, ragazzi No, vabbè Sì, qualche altra cosa? Uno scudo Oh oh, è il diamante Oh oh, è il diamante No, vabbè No, vabbè Ma... Oh oh... Oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... oh ma sono tornato indietro porca paletta no e non ce la farò mai morto che pippa al sugo e non ho capito dove sono andato ah ecco si non l'abbiamo trovata la strada eh ma eh vabbè dai devo salire su che pippa oh oh look at that luster bilancia just what i need to help me find a scepter you know mister mcd i had a thought launchpad why start now and spoil a perfect record that's a good question well i don't have all day what was your thought come to think of it yeah i forgot launchpad were you dropped on your head much as a child eh quanto mi stanno antipatiche launchpad launchpad there's a carving of manco cup quack on this stone slam and there's eight secuel of notches around it sounds great does it tell us how to find the treasure well i'm not sure what it tells us but certainly it's an important clue bless me bagpipes these coins i found will fit perfectly into those notches oh you must to come across an ancient ink and poker table mr mcd how about i come down there and you deal me in for a hand eh you come down here and i'll deal you a blow to the head you're supposed to be keeping an eye out for trouble remember you're supposed to be a good one 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 launchpad what if the images on these coins symbolize the various tribes of manco cup quack's empire maybe if i surround him with them mm-hmm oh look oh no it's not working hey maybe you need to say the magic word abracadabra what maybe not or whi not will you look at that the ancient city of manco cup quack and that beam of light it must be pointing to the temple of the clouds mm-hmm I am not gonna get across it's called oh oh do I follow that beam of light Ma, ma dove hai? Queste piante balorde Lasciamolo andare Eccoci al tempio Ho detto io con un piccolo giudizio dal vostro vecchio Lodged Pad McQuack D'accordo, Lodged Pad non potrei aver fattolo senza ti ora guarda le scuole con un po' di pennezza l'interno sarà mio in non tempo ok presumo che si debba salire ooo waka waka e chi è? la signora wick? bukley grazie signora come giuntile visto che sono pippa al sushi nooo ma va lordo buono e vabbè non avevo dubbi signori e vabbè non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori ma guarda non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori non 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 bene ragazzi mi sa che siamo arrivati al boss non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori che succede? capito capito non avevo dubbi signori non avevo dubbi signori vai no 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 sì giusto giusto è forse il caso meh non 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 c'è nulla cosa che possiamo fare per riparare a te. Beh, ora che ti ha detto, mi venivo qui qui cercando di un sceptero antico. Non credo che... Non sembrava così. L'escrivono dal templo. Oh, stanno incontrando per nulla. Eh, Mr. McD? Basta me, bagpipes, il sceptero dell'Incanismo! È il vostro. Andate e andate in pazza. Ecco. Dopo tutto, era solo il backscratcher del re del re. Mmm. Capito, sì. E beh, anche questa l'abbiamo fatta, signori. Buono, buono. Che ce faccio? Tutti si sordi? Il sceptero dell'Incanismo! Ti ho detto, ragazzi, c'è qualcosa di speciale su questo tesoro. Mh. 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 Ciaoooooo. Mh. Bene. Bene. Anche ragazzi, questa è tutto. Abbiamo fatto Amazzonia. E poi, nel momento, la rossa montata vedremo, insomma, l'altra destinazione. Tanto sono cinque. E... Bene. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettendo un like e ricordatevi, soprattutto, di iscrivervi al mio canale Restri. Ciao! E alla prossima!